I lavori riguardanti la diga gibesi sembrano essere nuovamente a un punto morto. Ed è dura la presa di posizione di cittadinanza attiva che per mezzo di un documento a firma di Maria Grazia Cimino e di Salvatore Licata specifica che è inaccettabile che ad oltre 23 mesi dalla emissione del bando e ad un anno dall'apertura delle buste per l'assegnazione dell'incarico per la redazione del progetto per la canalizzazione dell'acqua della diga gibesi, l'incarico non è ancora stato affidato allo studio che ha vinto la gara. Cimino e Licata scendono poi maggiormente nel dettaglio, specificando come non vi sono motivazioni, anche le più fantasiose, che possano giustificare i ritardi di questa entità. Le peripezie per arrivare ad ottenere il finanziamento da Agensud sono state incalcolabili. I viaggi della speranza verso Palermo e la terza commissione attività produttive non siamo riusciti a contarli. Gli incontri con funzionari regionali e del consorzio G5 sono stati numerosi e articolati. Cittadinanza Attiva chiede pertanto senza mezzi termini uno snellimento dei tempi. Denunciamo questo modo inaccettabile di procedere e risollecitiamo chi di competenza, con forza e vehemenza, si legge ancora nel documento, a voler procedere più speditamente ed utilizzando tempi più consoni al bisogno e alla normalità. L'agricoltura delicata brama avere acqua per uso in rigua e corre sempre più verso una desertificazione tecnicamente certificata ed acclarata. Sembra quasi che la storia interessi solo ed esclusivamente pochissimi e che ci sia più convenienza a far sì che le cose si trascinino stancamente così come stanno procedendo, piuttosto che procurare quell'acqua che trasformerebbe il volto dell'agricoltura e del territorio licatese.